ok stiamo registrando stiamo registrando io non ce la faccio sono in compagnia della mamma non ce la posso fare è una cosa strana fare un video con te perché non l'hai fatto mai quindi non sa come sta fare il mio sonno di vita basta comunque raga poi vi farò la intro io a parte c'è sti cazzi salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video questo video ragazzi è una reaction che ho voluto fare fare appunto a mia madre è venuto qualcosa di assurdo io mi sono pisciato dal ridere comunque non mi dilungo in chiacchiere vi lascio direttamente al video grazie a tutti per la visione è bella ragazzi è uscito prima in tendenze su youtube il video di young signorino x big fish che sarebbe la danza dell'ambulanza e ho voluto chiamare appunto mia mamma per fargli fare la relazione e vedere cosa ne pensi adesso mi tolgo le cuffie e le do a lei sei pronta? vedremo quando mi sta puttando bye portati c'è roti puttana siamo tutti roti per strada mi sfascissi tutte le sere si sente già le sirene sto troia vuole solo a me la puttana è tua magia e la troia è tua sorella perché mi sfascissi ma bene bevi le bevi le bevi le mischiale 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 calale 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 guida forte quando torni mi sfascio già prima di entrare non le voglio i tuoi free drink no fa guarda un altro locale ci caceranno da qui scendo dammi la tua puta se no me la prendo io tu no non te la devi prendere la farò stare da dire io c'è da una manco molta ma tu devi dare una tua impressione ma scusami che impressione devo dare che questo per esempio è un meno amato che dice cose non senza te è primo è primo nelle tendenze di youtube italia cioè nel senso che qualunque persona apre youtube c'ho la canzone a sua ma questa tu me la definisci canzone e che ne so appunto per questo dicendo a te fai la faccio anche io allora una canzone divento famosa e che canzone fai prima la scrivo e poi qualche giorno vengo qua e la vengo a cantare ti faccio vedere che divento più famosa di lui avanti andiamo sto stressandomi sto allucinandomi spessicandomi sto incazzandomi sto scopandomi sto danzandola lei si innamora sto baciandola sto fumandomi si medicina insieme ai medici che cosa ne pensi che cosa ne penso mi pare che questo cosa sia snuffato e fatto che non ti chiamo la vagina vai avanti stanno giocandoci come ai tilici felici le tenefascicero ti disinfettanti disinfettanti le tenefascicero l'ambulanza la danza dell'ambulanza la danza dell'ambulanza la danza dell'ambulanza cosa stai pensando? non ho parole tre posso parlare in siciliano? avvicinati un po' sapermene spiegare ora ti ricordo in siciliano mi ha fatto bene le tenefascate dopo un'annata cacciavaggio stanga morta mi hai da fare la doccia non volevo l'ora cuccarmi per fare i bambini di che cosa? il meno amato mentale ballo dell'ambulanza la buttana la troia ballo dell'ambulanza tutto quello era la canzone ma siccome prima delle tendenze di youtube e arrivare prima le tendenze di tuba è impossibile quindi c'è riuscito lui lui è il primo e allora io singho se l'indione io sono se l'indione vuoi continuare a sentire? vediamo cosa c'è l'ultimo l'ambulanza 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 ma 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 posso togliere qua quindi in che mondo viviamo quindi quindi cosa ne pensi di tutto questo cosa ne pensi? per me non ha nessun valore quello che ha fatto e nessun senso secondo me questo è cioè manco si può definire una canzone tipo una parodia una specie di parodia di chi ti sai chi ti cagliano gli attacchi peletici o chi ti si sniffono e poi cominciano a fare ah ma 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 allora questa questa reazione è finita alla fine glielo ho fatto fare mia mamma perché ho detto cioè io non è inutile farci la reazione perché me l'ha fatto capire mia mamma quindi abbiamo riso abbiamo scherzato un pochettino quanti like vuoi chiedere? per io per una prossima reazione che senso non ti capisco io non ce la faccio scusa che like vuoi chiedere? allora per quello che ho detto io? no o per questo? chi sto qua? per questo tutto se stai in giù? ma come si dice invece dei like? con le possesse dislike dislike comunque no e di norma quando si finisce un video si chiedono i like per farne un altro no? quanti mi piace? ok sotto questo video che abbiamo fatto io e tu quanti mi piace chiedi alle persone che ci guardano per fare un altro video? questo dico ma per fare un altro video come è chiesto? con questo meno amato? no con questo meno amato con un altro c'è il video che facciamo noi? no nel senso noi nel senso reazioni ad altre persone che fanno che cantano queste cose qui che devo dire? quanti like? ragazzi tu mettete tutti i like? quanti like? quanti? quanti ne devono mettere per fare un altro video con te? mille like mille like? se mettono mille like si fa un altro video di questo altrimenti non se ne fa tanto nessuno gli mette mille like poi c'è sto video sconchierote dopo si questo sciomoleto non c'è non ti alzare che si vede vabbè ragazzi il video è finito noi ci vediamo alla prossima la mamma ha detto mille ma probabilmente non ci arriveremo mai quindi ciao 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 buonanotte a tutti vado a letto vado? posso? buonanotte a tutti